come compilare la domanda per l'iscrizione al primo anno nella scuola dell'infanzia. Dal nuovo sito potete accedere in due modalità o attraverso il link servizi, servizi per famiglie e studenti, qui trovate tutti i servizi a voi dedicati. I due servizi che vi possono servire per le iscrizioni sono iscrizione al primo anno della scuola dell'infanzia e se avete bisogno anche dell'iscrizione ai servizi comunali, servizio mensa e scuola a bus potete cliccare su questo link. Cliccando su iscrizione al primo anno vi si aprirà una nuova pagina dove trovate tutta la descrizione del servizio. In particolare trovate il menu a sinistra con le seguenti voci, cos'è, come si accede al servizio, cosa serve, i contatti e ulteriori informazioni. La stessa pagina la potete raggiungere anche in un'altra modalità. Se scendete nelle notizie dovete cercare iscrizioni. Qui vi si apre questa pagina dove trovate praticamente questi due link. Questi due link vi riaprono frente alla pagina dei servizi. In particolare si invitano i genitori ad inserire i dati correttamente. Negli scorsi anni abbiamo riscontrato problemi con i cognomi, i nomi, i codici fiscali e altri dati importanti. Clicchiamo perciò su scuola dell'infanzia e qui vedete che ritorniamo alla pagina del servizio. Partiamo dall'inizio. Il modulo. Il modulo da compilare è un modulo digitale. È un modulo molto semplice, si può compilare da pc, da tablet e anche da cellulare. Il link lo trovate praticamente pubblicato da questa data. Solo in casi però gravissime, grave difficoltà, dove non riuscite proprio a compilare il modulo digitale, avrete la possibilità, la scuola vi mette a disposizione praticamente un documento che potete prendere, scaricare, stampare, compilare e consegnare alla scuola. Le modalità per consegnarlo alla scuola sono descritte qua sotto. Scendiamo. Qui trovate questo video tutorial in modo tale che potete praticamente riguardarlo. E sotto ancora appunto dove come si accede al servizio, lo vedete qua, trovate un tasto viola con il tasto compila. Basta cliccare sul tasto compila e vi si aprirà praticamente il modulo. Vedete che non sono necessarie le credenziali, non dovete logarvi, non dovete entrare con speedo né nulla. A questo punto il genitore che sta compilando la domanda ha la possibilità di inserire la proposta del plesso. È semplicemente una vostra richiesta, una vostra suggerimento. Questa vostra proposta verrà segnata dalla Commissione per la formazione delle sezioni e sarà uno dei punti che verrà praticamente analizzato per la formazione. I punti però principali sono i criteri di formazione delle sezioni, quelli autorizzate dal Consiglio d'Istituto, che trovate elencati sempre sul sito. A questo punto si inseriscono i dati del genitore che sta compilando la domanda. Inserite tutte queste informazioni, in particolare una vostra e-mail personale. Questa è molto importante perché sulle e-mail personali riceverete le credenziali per accedere al registro nuvola, perché anche all'infanzia c'è il registro. Su questa e-mail la scuola vi invierà a prendere tutte le comunicazioni importanti. Inserite anche un contatto, un cellulare, un contatto telefonico, meglio se più telefoni, più contatti, in modo tale che la scuola, se il bambino ha dei bisogni, riesce a contattarvi nel breve tempo. Una volta che avete compilato questa parte, potete aggiungere l'altro genitore. Basta cliccare in questa parte, vedete che si è visto poco il passaggio, però se scendete trovate praticamente la schermata. Ecco, mi raccomando, state attenti. Se il genitore che compila la domanda è la madre, qui mettete il link di parentela madre. Nella seconda schermata, la medesima parente operazione che abbiamo visto prima, potete mettere padre, come se il tutore è diverso, vedete che il registro vi dà la possibilità di inserire i tutori, alcuni elenchi con tutori che possono essere praticamente inseriti. Anche qui vi chiedo per il secondo tutore di inserire una propria mail. Meglio se le due mail sono diverse, perciò il padre ha la propria mail, la madre ha la propria mail o l'altro tutore, insomma. Anche qui inserite il numero di telefono. Una volta che avete compilato questi dati, inserite i dati praticamente dell'alunno. Quando avete finito, potete continuare. Qui vi suggerisco di leggere le informazioni, che adesso non ripeto perché vi sto già passando tutti i passaggi. Sotto adesso bisogna inserire, allegare, prendete i documenti che sono obbligatori. Sono praticamente la scheda aggiuntiva che si chiama allegato nuvola, iscrizione scuola infanzia, che adesso poi vi presento. Poi dovrete allegare il certificato di vaccinazione o la fotocopia del libretto di vaccinazione. Vi ricordo che comunque questi dati potete scaricarli anche dal fascicolo sanitario digitale. Dovete inserire le fotocopie del documento di riconoscimento dei genitori e per ultimo la fotocopia della tessera sanitaria del bambino. Partiamo dal primo punto. Come si fa? Scarico il modo con download, perciò cliccate su download e scaricate e prendete il documento. Io ve lo mostro andando in visualizza. Perciò vi si aprirà questo tipo di documento. È un pdf editabile, perciò potete scrivere all'interno senza bisogno di stampare nulla. Una volta che l'avete compilato con tutti i dati, poi andrà chiaramente salvato. Proseguiamo con le informazioni. In questo modulo potete mettere il paese, la città, non so, Casalco, Sterlingo. Dove c'è la via, potete inserire la via attuale e basta. Oppure alcuni genitori hanno domandato, ma se nel mese, ad esempio di maggio, poi so che mi trasferisco con certezza. Cioè è importante che voi sapete che questo trasferimento lo fate realmente ed è certo. Allora a questo punto potete fare così. Inserite la via attuale e poi potete aggiungere che però, non so, da maggio, e l'anno chiaramente, in via e mettete la via presente successiva. Poi dovete mettere il tic su Venga iscritto la scuola dell'infanzia. Qui sotto le dichiarazioni sono queste. Dovete dichiarare si ha frequentato l'asilo nido. Se mettete sì, qui dovete mettere il nome dell'asilo nido. Sotto dovete inserire chi appartiene al vostro nucleo familiare. Perciò metterete chiaramente i nomi di tutti i fratelli. Adesso io vi scrivo fratelli, lo mettiamo dall'altra parte. Fate nome e cognome. Ok. Luogo di nascita e qui potete mettere fratello. Qui potete mettere sorella. E così continuate. Se dovesse essere presente nel vostro nucleo familiare, cioè convivono con voi, vivono proprio nello stesso nucleo familiare anche i nonni, potete inserire anche il nonno o la nonna. Poi, importante è questo. Dovete dichiarare se i tutori, prendete, svolgono attività lavorativa. Allora, il padre svolge attività lavorativa, se lo svolge mettete una sì. Dovesse capitare per colpa della pandemia, praticamente, che qualcuno di voi sta lavorando in smart working, vi consiglio di mettere ugualmente sì, perché lo smart working, nel momento in cui termina l'emergenza, ritornerete praticamente al lavoro che, diciamo, normale. A questo punto, non siete più smart working, e ormai la dichiarazione è stata fatta. A questo punto mettete sì se lavorate. Poi, un'altra dichiarazione, che il bambino, in assenza dei genitori, viene abitualmente accudito e mettete il nome della persona che accudisce. Mettete il contatto telefonico. In caso di necessità, eventualmente, dovete dichiarare chi è questa persona, la mamma, il papà, la nonna, una persona di fiducia. Inserite voi la voce corrispondente. Poi, anche se qui avete messo dei numeri telefonici, qui potete aggiungere ulteriori numeri telefonici di questa persona, in modo tale che è più semplicemente contattarla. L'alunno ha fratelli o sorelle che nell'anno scolastico, diciamo, 2022-2023, frequenteranno ancora la scuola dell'infanzia. Se è sì, qui sotto poi ci mettete il cognome, il nome, quale plesso e in quale plesso sono, e la sezione. Questo esempio è uno dei criteri che potrà servire alla commissione per vedere, non so, ad esempio, se voi avete scelto di iscrivere il bambino a Ducatone, avete degli altri fratelli a Ducatona, sarà praticamente un criterio da tenere in considerazione. Poi, richieste di organizzazione oraria. Qui potete scegliere dalle 8 alle 12 oppure dalle 8 alle 16. Noi vi consigliamo, ad esempio, se siete sicuri al 100% che il bambino farà solo per sempre, solo dalle 8 alle 12, vabbè, segnate frequenza dalle 8 alle 12. Se invece pensate che magari in alcune parti dell'anno, verso la fine dell'anno, o comunque in accordo con il piano educativo e con le docenti della sezione, che il bambino prima o poi avete intenzione di fargli fare presente il pomeriggio, allora mettete subito presente dalle 8 alle 16. Questo non vuol dire che partirà subito a fare un orario così pieno, ma in base al piano didattico che si studierà per il vostro figlio, si vedrà quando sarà il momento perciò per permettergli di fare un percorso anche pomeridiano. Poi potete selezionare quali sono i servizi comunali che intendete attivare. Questo serve solo come dato per la formazione della sezione alla scuola, mentre voi poi dovete procedere con l'attivazione proprio sul sito del comune. Perciò qui è solo una segnalazione alla scuola per la creazione della sezione, mentre per attivare veramente i servizi dovete andare sul sito del comune e attivarli. Sotto potete mettere dei dati importanti riguardanti la salute del vostro bambino che ritenete sia importante che la scuola praticamente sappia. Qui inserite la data di compilazione e poi scendiamo. C'è la scelta se avvalersi della religione cattolica oppure no. Qui inserite il nome del bambino ancora. Sotto dovete scegliere, allora, se vi avvalete dell'insegnamento della religione cattolica fate la spunta qui e mettete la data. Se invece decidete di non avvalervi dovete mettere la spunta qui, la data, poi dovete scendere sotto, rimettere il nome dell'alunno e mettere un tick su attività linguistica, espressiva e manipolativa, gioco libro e strutturato con materiale didattico. E poi fate la data. Una volta che avete compilato tutto questo, salvate il documento sul vostro device e poi siete pronti per allegarlo alla domanda definitiva. Ritorniamo alla schermata e andiamo ad allegarlo. Allora, abbiamo detto che abbiamo fatto il download, abbiamo compilato il documento, l'abbiamo salvato sul nostro device, che sia cellulare, che sia tablet, che sia pc. Chiaramente da pc è più semplice il passaggio. Poi cliccate su questo più, fate scegli, potrete scegliere praticamente il vostro documento e potrete inserirlo. Adesso io ne metto uno a caso, chiaramente. Perciò, vedete, abbiamo inserito il primo punto. Adesso dobbiamo procedere inserendo anche il certificato di vaccinazione. Come faccio? Clicco su più, mi si apre ancora la schermata, vado a prendere il documento, e lo inserisco. fate e caricate solo quell'unico documento. Se invece non riuscite, e non so, potete fare delle foto, praticamente, con i vari device, col cellulare, eccetera, e diventano tante foto del documento, basta che continuate a cliccare sul più e continuate ad andare ad aggiungere, praticamente, le foto della vostra carta d'identità, dei vostri documenti di riconoscimento. Nel modesimo modo, dovete inserire anche il documento di riconoscimento del bambino. Perciò, vedete che è molto semplice inserire gli allegati. In totale, devono essere questi. Perciò, ripeto, deve esserci questo modulo, che è l'allegato nuvole, iscrizione, scuola dell'infanzia. Ci deve essere il certificato di vaccinazione, la fotocopia o le fotocopie del documento di riconoscimento dei genitori, la fotocopia della tessera sanitaria del bambino. Quando avete finito, scendete, leggete attentamente le informative e i trattamenti dei dati. Per quanto riguarda la privacy, trovate tutta l'informativa sul nostro sito nella pagina privacy. Per quanto riguarda l'autocertificazione, l'autocertificazione è resa ai sensi della norma vigente in materia di snellimento delle pratiche burocratiche e ha consapevoli della responsabilità conseguente l'attestazione di informazioni non corrispondenti al vero. Vuol dire che chiaramente quello che dichiarate è la verità. Poi c'è importantissima l'informativa sulla responsabilità genitoriale. Vi metto in evidenza questa frase. In pratica, il genitore che compila la domanda, chiaramente prima di compilarla, si è messo d'accordo con l'altro genitore. Cioè è importante che chi compila dichiari il vero e dichiara che quanto è stato richiesto nella compilazione di questo modulo è stato concordato con l'altro genitore. Altrimenti si prende la responsabilità di aver fatto qualcosa che la legge non prevede perché i genitori chiaramente devono essere d'accordo. Una volta fatto questo dovete mettere il TIC su a consento e cosa ha consentite. Dichiariamo di aver preso visione dell'informativa sulla pravisi, dell'autocertificazione e di aver effettuato la scelta nell'osservanza delle norme del codice civile sopra richiamate in materia di responsabilità genitoriale. Mettiamo il TIC per dire che non siamo un robot e finalmente possiamo cliccare su Invia e la domanda è completata e arriva direttamente praticamente alla scuola.